buonasera buona devo mettere un tappo un attimo eccoci non sono pazzo è la vigilia di natale è l'unica nota in cui siamo tutti più gentili disposti a sorridere ce li facciamo gli auguri non credo sia purtroppo non lo so grazie mi sembra ma non sono convinti e facciamo se di quello cos'è bello lizzer grazie gerla grazie gerlando che tra l'altro ci vediamo tra una settimana dove dove a milano viene a fare vede il 30 da quando io no e no tu hai lì a roma grazie ti wazze gratis con grazie non me la farò la tisana stasera mi va a pagare c'era anche la minifigures la mcgranate credo sia la weasley questo si è fatta bene dettagliato molto dettagliato ti mette sta fuoco ma oggi è il 17 grazie ignaf grazie castomenia grazie izu con si wazze gerla fabrizio matto perciò il 17 era clean marcia green e il 17 winter warmer non so cosa sia winter warmer si sentiva da laggiù winter o qualcosa winter warmer ma non mi va quindi rimarrà lì amici scritto che giochiamo è nel titolo e giocheremo ma prima abbiamo un compito ben più importante da fare dobbiamo scalettare dobbiamo scalettare che martedì potevo scriverlo nel titolo effettivamente martedì guarda martedì maratona almeno no dobbiamo fare la scaletta però su quindi apro paint poi dopo la farò ben bene su photoshop ho chiuso la live però adesso è il momento di paint allora vediamo di fare una cosa ben bene eh si è non deve prendere questo maledetto il sucaiolo deve prendere questo no bravo bravo non si può da frenare catturiamo lo schermo via mi si è rotto il computer cosa è successo questo cos'è ecco l'ho rotto F11 troppe volte non dovevo farlo mi sa grazie Xem perchè non le sento qui? ha paura lo sentite adesso è che di qua non c'ho quella di Natale mi da fastidio un pochino vabbè sti cazzi non importa chissà perchè effettivamente fare la live la 12 ore dopo Natale però perchè? perchè c'erano le sub in sconto regalate come diceva un bambino lugino di approfittarne però effettivamente avremmo solo un giorno per farla avevamo solo un giorno che era il giovedì 28 ci avrò anche sarò impegnato anche a fare un sacco di robe a occuparmi un giorno qua beh si deve prepararti eeeh eeeh perchè poi dal 27 che stronzi veramente si per Natale vietato regalare a Natale cioè va bene va bene lo fanno perchè tutta la gente che riceve i soldi in regalo a Natale li spende qui perchè loro pensano a quello però comunque ragazzi allora scaletta partiamo alle ore 10 alle ore 10 e 0 0 con eurotrack allora sarà no ci sarà la rassegna la rassegna colazioncina e rassegna quindi colaz più io vorrei capire se si fa td o no rassegna td probabil se non facciamo td però facciamo l'albergo eh pretendo che facciamo l'albergo se ne so un po' di vellini comunque li ho provati tutti sti giorni no no voglio fare l'albergo l'albergo rimane forse comunque il più bello eh ma è molto bello poi l'hanno aggiornato visto ci sono anche domande molto nuove cioè proprio recenti quello non lo so però no l'ho provato un mesetto fa un altro che target però che cazzo eh quanti esami insomma allora 12 ore a termo dovremmo ribrandizzare la termo maratona comunque io propongo termoton quale sarebbe bello quando se dovessimo fare di beneficenza perché perché prende teleton e venta termoton effettivamente è vero eh però termarathon fa schifo email eh 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 frapsa ciuccia eh va bene comunque non ha mai detto qualcosa che non sia critico è incredibile comunque no no sempre a criticare e a volerci male io non so come fa a pagare questa sub con che coscienza la mara sifona termo run va bene no nessun ribrand nessun ribrand va bene termo maratona 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 che giorno è il diciannove 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 duemila e ventitré oh ti dirò scrivo anche da dio col mouse eh per come scrivo a mano diciannove pec hai scritto dec 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 oh comunque eh dicevamo no no non scegliamo nessuno termo maratona perfetta con l'hashtag naturalmente grazie Lorenzo guarda più che roba grazie Lorenzone allora dicevamo alle dieci colazione più rassegna fino lucange grazie dei tre mesi ad un ad un circa le undici dove alle undici vedremo protagonista una bella eurotraccatona classica hanno aggiornato hanno messo nuovi effetti grafici azz compresa la luce nel cielo è cambiato tutto eurotracc col volante con volante se devi fare professionista devi fare slash width no non so non me ne so su paint capisci che non è cosa fare professionista eeeh eeeh lord kingo cosa migliore di passeggiare l'anniversario con la tua amata vedendo la eeeh la maratona e scusami eeeh più romantico di così se vuoi eeeh facciamo anche una dedica non è vero questa cosa mmm un'altra cattiveria scritta da franza poi dodici e trenta si mangiamo facciamo si facciamo pranzo 12 e 30 si così a luna siamo già pronti per andare avanti io mangerò a luna vabbè ma al solito eeeh pranzone di natale non sarà di natale ragazzi questa è una gag grazie duokex eeeh grazie duokex poi tredici quando vogliamo fare forte anche innanzitutto per far pagare le cose a giro non alle tredici in un momento in cui c'è poca gente non lo faremo un momento in cui c'è poca gente non lo faremo un momento in cui c'è poca gente perché tredici e trenta? non lo so gli esero sbagliato alle tredici eeeh alle tredici aspetta abbiamo quattro giochi nuovi mi insegnavo ne uno adesso non mi ricordo come si chiama allora quattro giochi nuovi abbiamo io devo ancora comprarli poi fatemi vedere steam ragazzi allora negozio vediamo vediamo un attimo il mio carrello ho nel carrello lamento non mi serve vabbè tanto li doveva scrivere abbiamo da provare neces abbiamo da provare dungeon o sundaria che stamattina Karim me l'ha bocciato tra l'altro ok perfetto però magari insieme magari insieme divertente e poi aspetta era necesa make way ah make way che ce l'abbiamo già installato e poi quell'altro che avevamo già preso le chiavi che era sos che gioco era quello sos ops si dei pompieri però fatto tutto strano tipo quelli di come si chiama sos sos ops ah sos ops nel coso quando c'è andato la chiave di questo ragazzi c'era anche scritto la pronuncia del gioco non è sos ops ma è sos ops di pronunciarlo così no questo magari lo farei più avanti questo sembra molto figo sembra carino questo sembra stupido carino e allora non so dalle 13 alle 14 metterei verso il carrello neces forse necessita di forse un ma magari neces potrebbe essere quello che salta perché magari quello va bene anche farlo in una mattina normale se proprio non c'è spazio io magari farei dungeon of sundaria va bene mettiamo qui dange ons of sundaria se occupi ci pensate per entrare su forse no dovete entrare dovete entrare a forte nella seconda partita ah no però tutto è vero tu hai firmato male il contratto moro con giro perché? perché gli basta che una partita arriviamo a 50 giocatori e il contratto già lo vince lui mica ci arriviamo a 50 giocatori no secondo me si ma palesemente non ci arriviamo ciao Luke ciao fra su un arco aria ho fatto vabbè alle 14 alle 14 e vogliamo metterlo lì? non so quando lo vuoi fare fortnite alle 14 ci potrebbe stare no alla sera no alle 14 ci potrebbe stare però facciamo un'ora e mezza di fortnite perché in un'ora fai due partite eh sì vabbè vediamo fort niente che giro tu già devi pagarle a prossimo c'era l'asterisco nel contratto che hai firmato con cazze axel chat ah ecco qui c'è da specificare che nel contratto tu non l'avevi specificato è con la chat o con i sub? no con i sub grazie con la chat ma non me l'abbiamo fatto con la chat eh giro quindi grazie axel grazie fox non farei il ridicolo tanto siete tutti i sub poi non rompete le palle quindi fortnite con chat guarda che giro già sempre con la chat ma sono sempre stati subito però la chat naturalmente non fare il ridicolo adesso trovare le le gabole dai veramente un pagliaccio ma partecipava chiunque quando mai partecipava chiunque a fortnite mi trovate delle prove su questo può essere effettivamente però mi trovate delle prove vabbè io eviterei comunque non era neanche giro cioè se non volete divertire poi grazie luke ciao luke bravo bravo luke che spamma anche gli sconti grazie luke giro però non era neanche specificato con la chat era solo forte e generico quindi decidiamo noi se è con la chat non ti sei neanche imposto tu con la chat è facile adesso venire qua a piangere eh giro allora sempre solo sub ho visto vedi ah 15 e 30 e mettiamo un altro di quella make way make way dai make way anche sembra bellino ragazzi eh make way è ultimate chicken horse però bisogna piazzare i pezzi di pista per fare un percorso con le macchine in multiplayer naturalmente ehm poi boh 16 e 30 io farei uno dei giochi lì nuovi di jackbox si metterei già qualcosa lì farei un po' qui lì e un po' la sera e quello lì jackbox cosa si può fare perché sarebbe bello anche fare entrare appunto gente della chat si ovvio ovvio grazie tomato vabbè metti jackbox generico per ora cioè qui però non l'hotel no l'hotel è la sera lo voglio fare con corna e gli altri lo voglio fare l'hotel perché l'hotel voglio che ci sia gente che parla per figo jackbox ttt purtroppo probabilmente non ci sarà lo faremo un'altra volta comunque magari non in una 12 ore magari non faremo una sera normale jackbox poi cosa abbiamo 17 e 30 non volevamo fare anche no non so fare un po' di letal company quelle robe lì no si una cosa noi si ci sta quindi dalle 17 e 30 alle 18 che altri giochi abbiamo aspetta ci sarebbe poi allora necess e quello lì dei pompieri quello dei pompieri certo allora necess possiamo anche escluderlo perché lo possiamo fare un'altra volta metti che necess lo escludiamo quà quante ore mancano escludendo il pranzo mancherebbero 5 ore jackbox ah vuoi fare un'ora e mezza eh farei un'ora e mezza di jackbox arriviamo alle 18 un po' di chvem a tema termos cos'è eh chi vuole essere ah chi vuole essere miliardario ecco cosa dovevamo fare anche bravo luke bravo luke infatti non ce lo ricordavamo allora lo metterei e allora jackbox un'ora se no non ci basta il tempo jackbox un'ora se non ci basta il tempo perché se facciamo 18 dalle 18 alle 19 chi vuole essere miliardario e poi non ci abbiamo tempo verso sotto eh non abbiamo tempo perché poi c'è la cena e poi c'è già subito l'hotel perché poi la gente arriva l'hotel due ore la sera vogliamo fare e comunque dalle 8 ma almeno dalle 8 alle 9 lo devi fare perché poi il corvo va via alle 9 e tutto quindi devi per forza farlo almeno dalle 8 alle 9 al posto di td poi se andiamo avanti a farlo oppure possiamo fare alla sera l'ital company dalle 9 alle 10 un po' lento possiamo mettere un buco di rital company allora qui facciamo jackbox un'ora e quindi alle 17 e 30 no 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 fai un'ora un mezzo fai fino alle 18 dalle 18 alle 19 facciamo che vuole essere miliardario fino alle 18 poi chi vabbè poi c'è sempre con lo sforamento di 10 minuti eccetera eccetera wall ed ah no però non ci sta il gioco nuovo eh no vedi per quello ti ho detto eh no per forza allora fai sì fino a 17 e 30 poi da 17 e 30 alle 18 e 30 facciamo SOS OPS allora c'è 7 e 30 SOS OPS poi 18 e 30 19 e 30 metti sì fai 19 e 30 poi magari finalmente un prima che troppi 30 ci sono che fastidio come si chiama ehm chi vuole essere milionario sì aspetta mi ci vuole un po' per scriverlo questo chi vuole tanto lo sa essere miliardario termosedition TE poi alle 19 e 30 metti pranzo cena che poi magari sarà prima vabbè sì sì vediamo eeeh poi alle 20 metti l'hotel 20 trivia murder un sacco di roba parti e alle 21 fai lethal compari alle 21 possiamo fare lethal fatica ragazzi così visto che corvo anche vale di solito ci sono dalle 8 alle 9 almeno sono giusti nello gioco grazie parcheggio grazie grazie mi piace se disegniamo un piccolo babbo natale 2 3 4 5 6 7 9 giochi su eh ddt perché potremmo anche farlo ma da quelli che ha messo che ci sono sono in 7 siamo pochi e viene brutto allora corno non c'è tra l'altro no vedi corno non c'è martedì quindi lo faremo un'altra volta no non è così impossibile ce la si può fare semplicemente bisogna organizzarsi un po' prima e decidere bene ready or not l'abbiamo fatto l'altro giorno e andava un po' male più che altro qualcosa si generava de merda lo rifaremo sicuramente eh però andava un po' male è che ci abbiamo di roba cioè si e manca comunque uno dei giochi che mi hanno comprato perché non lo facciamo non ci sta si io devo comprarli vabbè abbiamo di roba di roba nuova abbiamo Dungeon of Sundaria Makeway Jackbox Sosops chi vuole essere milionario è sempre nuovo alla fine River Murder Party è sempre carino sono sempre domande diverse dove posso trovare le vostre liste di idee lì qua sotto in descrizione oppure qui dov'è chi è ah se ci comprate qualcosina di dalla lista desideri ragazzi eh li apriremo il 22 venerdì mattina allora che arrivino tutti sì a me mi è arrivato oggi quello di Valerio anche di bambino in originio mettra ieri oggi quindi 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 potete ripetiamo potete anche comprare robe fuori dalla nostra lista desideri basta che mettete un oggetto di poco costo insieme esatto se mettete praticamente tipo le patatine eh aspetta che me lo apre la bestia sì tipo abbiamo messo nella lista tipo anche patatine e robe che costano un euro perché volendo voi le potete mettere nel carrello poi al carrello aggiungere anche un regalo che sceglie un'altra cosa da Amazon non dalla nostra lista da Amazon in generale come volete voi e spedircelo insieme all'altro oggetto che avete messo quindi potete farci anche un regalo a scelta senza che lo prendiate dalla lista se volete così hanno fatto quelli che ci hanno fatto qualche regalino se ci mandate qualcosa noi vi avvisiamo li apriamo in live venerdì mattina così se volete vedere anche una reazione qualcosa almeno è tutto in live va bene ho tre dentsticks per i cani non ho un cane quindi mi darebbe meglio i tronchi a quel punto ecco sono pure boni sono le mie dentsticks per i cani i tronchi a posto salvo un png sul mio desktop salvo senza titolo vai salvata la scaletta poi dopo la pubblico su threads questa qui va bene solo libro eh sì non credo lo useremo mai con i te no credo proprio non abbiamo mai usato neanche TikTok fino a poco tempo fa no esatto noi arriviamo due anni dopo tre anni dopo tre anni dopo tre anni useremo tutte le sub adesso vabbè l'autoscena come senza titolo bastardo bastarda ci sei tu faccia di merda facciamo gli auguri Vector apri fortnite dai buon natale capito buon natale è un cazzo mi piacerebbe fare quello delle musiche ma non si può cioè lo metti fortnite fuori a me non piacerebbe farlo comunque a me piace sai cosa mi piacerebbe fare quello delle musiche su jackbox perchè non c'è il copy ah però non si può guarda che non potrei far vedere ma non posso neanche far vedere cioè dovrei calcolare anche il chrome mio poi a parte che lo giocarei dal telefono perchè è molto più facile è salvato morsi a parte che poi vabbè posso riprendere la live e vedere da lì schermo non lo avrò da un pochino fortnite sai? io da tre ore credo io no beh io devo sbloccare peter griffin entro martedì e ce la posso fare mancano pochi punti che c'è sta musica che paura hai le prove ma tanto decidiamo noi Giro il canale è nostro tu quando hai firmato il contratto non l'hai specificato quindi è colpa tua anche noi non l'abbiamo specificato che era solo per i sub ma siccome noi abbiamo il potere che è il canale è nostro decidiamo noi Giro se l'hai assegnato ad un avvocato d'ufficio ti potrai difendere con tutti i mezzi che hai a disposizione non ti preoccupare no no allora no allora no deciso morocchio non si può fare no no però se non salvi il VOD e le clip si puoi farlo ma proprio Epic l'ha detto non salvate né VOD né clip proprio perché sono musiche piene ebbè solo copy a parte quelle del possiamo giocare a quelle di Epic sì però però che palle sono belle però che palle bello del gioco proprio usare le musiche belle non mi interessa neanche troppo farlo in live io voglio che mettano quella di Alan Wake spero che la metta proprio tra la palle ecco poche host dei giochi eh sì per ora sì ma in realtà per ora sono poche in generale perché le mettono pian pianino potrebbero mettere quelle free potrebbero mettere quelle di Rocket League cioè dei giochi loro si anche di Alan Wake è loro i Rocket League sono troppo difficili non si può fare è tutta musica elettronica è tutta musica elettronica è impossibile da fare grazie Gianluca grazie Gianluca perché sono qua sotto Rocket League? l'altro giorno stavo giocando c'avevo Fortnite in in background mi ha dato la blue screen of death così per capire due cose grazie grazie non salutire grazie anche Gianluca non salutire non mi esce più è finita Gianluca se vuoi martedì sera facciamo il gioco Triple slash party se ci sei alle 8 quello dell'hotel risponde alle domande alle 8 fate intende qualcuno di noi si possiamo volerarsi aspetta messo pronto mandò mettere proprio mettere uno di voi secondo serie fin filare per gli esserci in casa entrano oltre al silvano giro dai entra su forza e forza e unitevi come sono al solito come faccio di giocare di avere almeno un di noi nella lista volete se volete giocare di spaccio bene il treno aprire quindi sono retroattivi io due ne ho aperti meno male oppure non fossero attrattivi poi cagate stan cagate si però a chi non danno robe decenti che c'è si è detto i regali tra l'altro moro oggi mia mamma ha usato il chi inappropriatamente più rendi con la patti che donna stavamo parlando dei medicinali e gli chiedo sì ok ma questo come lo devo prendere le fa ma chi no ma non è la domanda vera è il cosa maledizione anche se ne faccio il ragazzo rosseino grande che grande cos'è cosa è riuscito dentro vettro ma la samba di porti a capodanno me la posso mangiare col cucchiaio o è sabbiosa no è una crema c'è una crema e come te lo faccio a dire ho aggiunto una cosa della lista di cremosa è pastosa si che però al prezzo che non arriveranno mai da poi mangiare col cucchiaio ma la spalmiamo nel pane nel pane di arricominio ma giro e mbe giro deve mangiare la testa di cazzo olcec entri su fortnite per favore ma che olcec quando mai ha giocato a gioca? gioca olcec a fortnite come no? io parto tra cinque secondi se non entra nessuno poi te pensa te pensa non entra una persona per giocare con noi figurati nel senso chi è che mi ha aggiunto di mangiare la carta? grazie musta ok mazza grazie a dire chi è? grazie musta fabio qualcuno ne ha aggiunto però non è un nickname della chat ah sei tu joan ok ok ma chiamatevi correttamente bambino di chiardi non l'ho accettato io non so che siete poi anche per questa canzone ormai mi stava trapanando il culo eh beh che la prossima livello prendo grazie si ormai grazie si ormai grazie si ormai io ne ho già preso si ma passare da Jonas Drummo mi sembra un po' di rap se in realtà sto aggiungendo un po' di robe alla lista di desideri che sto trovando delle cose musica prosegue fra sei sì ma il problema è che non so bene cosa purtroppo cioè sono tutte robe abbastanza costose non so che robe poco costose non è facile trovarle che mi interessa a parte se non mi ha pronunciato da telefono non mi posso leggere no ma a parte o me le sono già comprate o sono talmente inutili che non le metto rifornisci un veicolo con il mitragliette no andiamo a gran ghiacciaio dai mitragliette non le uso dov'è il gran ghiacciaio? eccolo qua secondo me è dove c'è la neve ma io so colonne cineastri colonne cineastri spero che controllo cineastri perché c'è un quadrato lo vedete a sinistra a destra dei nostri nomi nell'angolo c'è un quadrato grigio a destra dei nomi a sinistra sono i nomi c'è tra i nomi e la bussola io c'ho un quadrato grigio no io non c'ho tutto oddio come fosse un grafico piatto però no moro è che è fatto proprio di merda c'è questo gioco cioè non so come dirtelo eh no la lista steam la lista steam metto solo i giochi che dobbiamo fare in live per ricordarmile ma non metto robe che mi interessa anche perché c'è che da giocare così perché tanto io più che altro li gioco su playstation i giochi single player e il corso delle statistiche non te le fa vedere no le stanze ragazzi no meme tirato boh perciò dice nonno mi carica la matta mentre scendo c'è il nonno aeroidra grazie per l'amicizia sbagliato tutto non fa voglio niente però si ti piaceva dopo poi se vuoi più che e anche io ho pensato a quello cioè sembrava il grafico bello il cardio cazzo cosa sei qua ho trovato un pupazzo di neve boh vabbè ragazzi direi quello che devo fare io lo faccio eh beh no ho trovato un pupazzo di neve eh maledetto con cui l'interazione di redetta eh ragazzi il fucile viola sesso ah tu qua voglio far danni alle persone cosa hai detto grazie vazza ah ok cos'era quest'allarmismo scusa eh ho sentito santa polenta oh what's up signori ok che paura poi mi ripresa eh mi sono spaventato scusa noi dobbiamo trovare gente a fare danno noi moro se no non facevano obiettivo eh dobbiamo trovare gente a fare danno grazie a vicky ci sono i bot qua no non c'entra ne allie sono i giocatori ma li fanno i giocatori ah no non è vero non è vero anche a lei ma che è il bot va bene ah allora è lì come li sta contando quindi si solo che sei che paura non rialzate il boss però aiuto attacco turgido attacco il tiz ma si è rifiuto lo sculo ma come c'era chi è questo sponazzo aiuto ops ho chiuso volete questo fucile d'oro c'è d'oro quello viola che c'è quello d'oro bello cos'è questo fucile moro ma tu sei enormemente poi ma non ti vergogni chi ha preso la chiave eh quale chiave non lo so boss dovrebbe aver dato la chiave oddio non c'è voglio chiave ho preso il cavo ho preso il medaglione e dovrebbe indicarti dove la è il medaglione la cassaforte eh no me la indica dovrebbe essere qua me la indica però non e qui v qua v qua dai come on yamuni yamuni yamme bello yamuni c'è scritto pizza nelle fonce ok ah basta avere il medaglione addosso ok 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 e beh quanto ci mette ah ma si può editare l'arma qua c'è un cerchino che lo voglio io si succato c'è un altro codo non c'è un altro ciucciare è nelle teche si c'erò si il pompabello pompadour è che vedete il rapido è invece di più o meglio di poter rapido cazzarola però io voglio le munizie dove si compro le munizioni scusami perché me le hai buttate per terra perché fai prima rompere popipop io ho il mio è a posto sto pompa l'oglio perché non l'avete preso c'è il mirino lungo caricato il mirino lungo ombreno ma no ma c'è un lato ma cazzo va bene così va bene lo ciuccio questo ho 21 munizie van bene van bene io del pompa ne ho molto molto poche però dai se voi ne avete mi fattrete la carità mi fattrete non ha schizzato chi? chi è stato a farti questa tremenda azione il coso non ha schizzato grazie salvo per il raidino grazie mille c'è un coso qui è molto piccolo e carino aspetta colpite forte voi io arrivo che c'è Moro che ti serve? no no sto arrivando sto arrivando sono sparato e Moro puoi prendere la taglia se ti va no l'avete già presa no c'è già ah c'è azzotti perché non riesco a colpire qui sopra me li ha eh sarà che fai cacare non ho nessun'altra spiegazione cazze lady un altro c'è pieno di cecchini qua eh oddio di che qualità ble arriva la safe ragazzi via ah sono pieno di danaro danaro e perché che a levarci dai coglioni eh lo tocca un bel buzzone di munizioni questo è buono eh io ecco io ho munizioni tante del fucile però del resto un pochino ce ne ho io poi eh ah oh io oh io oh io io qua più che dispiacerti hai proprio gustato questa caluta secondo me no perché ti fa muove ora faccio un salto perpendicolare salvazza vigitrice palascriva poi ti rispondiamo vigitrice ma posso guidare col pisello ragazzi no quattro perché non bangi le bacche io come devo fare ah sulle bacche avete trovato il sergente sull'isola che c'è di per me ah quello che dai regali sali sali vai ah ma sto per me non serve a un cazzo me lo butto come non serve a un cazzo scemo di merda no la non è fatta eh no non mi dà tutto lo scudo mi dà 50 no la non è fatta basta arriva fino a 50 che immondizia eh eh ho svitta questa motoretta ragazzi ah sì Hector perché non sali con me in mea motoretta medaglione non serve a nulla perché ti fa vedere sulla mappa e adesso non cura neanche tu dai Moro fai le pende davanti a Yugi e Yugi muto per favore e chi sto bravo ah devi prendere 5 medaglioni per avere tutto lo scudo ma che cagata ma che lo trovo di padre ma chi c'ha la voglia di farlo ma chi ha mai la voglia voglio fare la GTA trick non ce l'ho fatta no Moro come si come andiamo con questo cinquantino con il mio motore oddio come esce scritto quando fallisce il trick acrobazia folle fallita senza piedi mi ha dato senza piedi qui scenderò qui vabbè ma trovo se ammazziamo Bobumen per favore che mi eh dai andiamo a trovare Bobbiau eh le munizie del compo non le ho trovato da nessuna parte mi sono scordati che esiste un'arma dove è il Bobbiau è laggiù non lo so dove ma ragazzi ma è f*****o Bobumen ma chi se ne frega grazie Andy grazie mille grazie anche Robi Newt grazie grazie dei Newt non è grazie dei Newt non grazie anche Ragadi grazie Itaga uno è a terra per esempio grazie grazie Itaga tutti e due è disapusto un altro 1010 è morto ok ne manca uno oh due ne mancano è morto che dolore nelle mie orecchie di merda si appaerato è solo su questo la sinistra questi non vedo più nessuno se hanno delle voci del compo me le lasciate per favore non mi dava a seguire non mi dava a seguire a destra stanno veramente sparando tanto ma sono dei pazzi grazie mille a parte che i succhi i frutti li devo usare vicino agli altri vedi che perché non li ho usati venite vicini a me arrivo ma perché danno scudo anche a noi i frutti non sono perso no si si no è splash ma che storia che lo sapeva ho visto che si li mangiano pensavo ce li dà solo a me grande ragazzi figo godopolis che lo sapeva godopo la godopolis bella vedete regiro identico prima guardando proprio dal coso di OBS è arrivato agli stessi decibel il cecchino anche se ho abbassato gli effetti è vero che è molto forte però ecco una cosa che non ho che ci ho pensato però non ho mai riferito è che effettivamente fa un rumore troppo eh ma perché potente quello chi l'ha messo mai in dubbio assolutamente io l'ho messo a pecora ok perché non metti me ancora moro no ragazzi mi stanno sparando chi a me dietro ma fa niente io risolverò tutto con estrema perizia arrivo uno è a terra stronzo innanzitutto per sempre oltre modo e l'altro pure sti coglioni hai schioppato subito oi a terra no 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 è ancora vabbè mi hanno rubato il motorino ah no no bastardo madonna mi stavano rubando il motorino mi incazzavo qua eh hai sparato subito vieni 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 e se è andato dritto e allora che ha già fatto stavo facendo un tricks lo vuoi tu gli metti al cecchino però fammi salire l'altro dove era è l'altro no era questo questo era l'altro questo era quello azzaccato era quello a sinistra e quello vicino all'albero che io ho ammazzato il resto no ah beh non c'è posto portare nella moto no stavo l'indosce l'altro gente eh ma la moto ragazzi è così è uno spot grazie grazie l'acqua andiamo all'altro paywhip 180 destra dove andiamo? all'altro metto un piccolo no questo è no quel c'è raggio di luce ah ma c'è il raggio blu allora che mi frega a me vai moro le penne bravo oddio bravissimo è un tailwhip 180 a sinistra orishitto orishitto vai però se non lo prendiamo comunque non serve a niente stare vicino all'altro aspetta non mi farei brumatz vai vai non è brumatz con la moto aspetta eh brumatz so quello sta rovinando un sito archeologico di anni e anni con la motorezza non è esdrongo forse cosa cazzo dici moro ah non ha scritto giro scusa oh mi si è bucata no ti si è bucato il pistolino go go sono un fascio di luce enorme ma non ma chi è ah si moro sei tu con sta luce che cazzo è con sta torcia enorme sono caduto da moto ma che vergogna che vergogna eh fa male ma arriva qualche utente medio a cui sparare o mi devo annoiare eh moro ma sai che ormai è proprio così cioè nel senso vera me quanto generico dovevi essere stanno sparando eh è che le battle royale le mal sopporto appunto perché nessuno gioca più cioè non ce la faccio io a giocare safe più nelle battle royale non gioco più io sto andando verso gli shoots ah si c'erano degli shoots qua dove c'è il nostro sfigatone pronto a morire eccolo ma stai da solo ma stai qua cazzo salti bastardo ma ormai non ti arrivo a te se tu vai via così fortemente poi come ti aiuto se in caso tu trova male sta arrivando gente qua sopra moro moro dietro oh santa polenta che vi ho detto io che cazzo vi ho detto ma sei per terra a poca vita a poca lutto lancio di sotto fate vicino ma era a terra era quello eh c'era arrivato l'altro qua l'albero eh vieni giù anche tu vieni giù ma ragazzi mi hanno shottato ho visto che si è andato giù come Pippo in zango non so chi è stato ma mi ha shottato uno è qua tirate in due no ti spara mazza attento prendi le botte io non so chi è stato col cecchino perché non ho mai visto nulla e sono anche un po' morto proprio ma ma otti ops le azale sono ancora in vigna però non so se ti conviene eh niente bestia eh sì con colpo eh a me il cecchino ha preso e ho detto ma chi è stato cioè non vabbè torniamo la lobby eh che non sono più devo riprenderci Mauro a quanto pare eh mo siamo solo con la musica abbiamo fatto gioca la partita vincendo la tua sfida eh no che non doveva cambiare il giocatore eh certo come si fa quindi torna la lobby esk giro esk torna la lobby ma giro veramente lui senza chiedere niente a nessuno ha già le chiavi di casa ed è entrato dentro eh ma è così è normale no ma che adesso ci ha messo l'ista squadra vabbè tanto sono la lobby sono vazza è fuori fuori vazza per cacciarlo anche eh però cambia modalità si si deve unire al gruppo sdrumo no no io vi odio ragazzi vi odio quasi siamo troppo Mauro ma mettiti il fatto di accettare la gente alla lobby maledizione al cazzo ricambia la squadra no l'ho messo pronto devo mettere zero build zero build eh non fa più battle royale zero build ecco oh eccoci qua finalmente ora mettiti la cosa di dover accettare gli inviti senza la gente ci unisca e basta non mi vanno è banculo allora ti dico che entri in lobby giro devi strisciare lo schifassi è pronto non sei pronto sono pronto a perdere non è vero c'è scritto non pronto che figura di merda ma poi l'ho proprio scritto pronto a perdere e tutto era men che pronto forché pronto impossibile chissà se giocando a porno mi riprescono i capelli no Moro non funziona così ma se vuoi andiamo in Turchia Moro ci facciamo un bel viaggetto e te che tu cosa fai i miei compagni sì dai va bene va bene allora facciamo un vlog vlog dei capelli sì andiamo al gran al gran cazzone al gran burrone vogliamo andare beh proverei la demo di Tekken ma perché non me l'hai chiesto me lo chiedete anche me lo chiedete anche io ho provato la demo di Tekken fa cagare la demo eh ma perché è il demo della storia eh ho capito ma sono due due incontri tra Jin e Kazooie e basta no ma poi ho visto che c'è la parte Xenoverse hanno fatto pure la parte Xenoverse di Tekken come l'hanno fatta su sì la parte arcade sì che io compisco sta fissa ma boh vabbè cosa devo fare lì mi nessuno grande acciaio di nuovo prendiamo la grande acciaio eh ma dobbiamo solo rompere cose qua adesso andiamo a rompersci le palle e a me quella roba cioè l'ho già detto mesi e mesi fa quando vorrei provo Street Fighter a me la parte Xenoverse di Street Fighter dove io mi faccio il mio personaggio ma che coglioni vogliono buttarmi online e spaccarmi di rank fino a che non mi cadono le mani nient'altro nonostante purtroppo il trailer della story mode di Tekken ti spoilerà qualsiasi cosa e sembra veramente veramente interessante la story di Tekken quest'anno quindi vabbè la story mode non ti cioè c'è il primo il prologo c'è nella demo sì no no però nel video di presentazione che ha fatto la Bandai spoilerà tutto e quindi dei grandi però vabbè c'è molta gente ovvio e ora io purtroppo ho fatto una piccola cazzata sono sceso molto prima ma non volendo no c'è le guardie e io non ho non ho la cocaina in tasca come faccio mi sparano ecco Street Fighter ancora rimane una delle mie delle mie cose mancate quest'anno c'è lo screeno nel culo c'è lo screeno nel culo io non vedo l'ora di tornare ai vecchi tempi in cui facevano i balletti con Kuma e Panda tra di no no ragazzi qua è tutta una merda ve lo dico no c'è il boss osteria e beh sono lontano e i nemici filippici e mo cacca dov'è il boss dov'è è qui sotto non so perché sono io sopra ascemo osteria sono dietro mi ha ucciso la madre una persona vera qui si si eh ma qua sono persone finte comunque mi fanno tanto danno no mi ha ucciso mortezze sua giro che ti ha fatto bua che è questo a terra vieni qua vieni qua giro che palliativo frizzante che cazzo vuol dire questa acqua lette che ti risolve le malattie dire a pecora ho fatto fuori tutto tutto quanto ma quello è il boss eh lo so boss smettila di fare atti c'è quello dietro non commettere atti qui c'è un giocatore dentro che sta per uscire mi ha cattato addosso ma giro è senza pecore ragazzi ma da quando suoniamo siamo dire ammolliti no ma quando giochiamo con Giro li perdiamo subito ma abbiamo vinto la tua volta non gioca dai per favore sappiamo che non funziona così pazza ti chiedo scusa perché a te questo privilegio non è toccato ma la prossima volta te lo prometto non ha commesso del braccio destro non c'entrava la situazione vi piace questa foto tra l'altro l'ho stampata ieri Gibo la foto si anche questo ho stampato però non vedo quell'altro perché sono piccolissima il telefono poi si è ancora più piccolo quindi verrà impossibile quella la fotina di gruppo che abbiamo fatto la games week me la metto nel portafoglio poi santino diventa poi che la porti a noi al capodanno moro anche la voglia porto la stampantina direttamente al capodanno che bello porto anche ho comprato anche le cartucce per la polaroidz polaroidz e voglio fare un sacco di foton troppo bello sempre in 3d la foto di Gibo che cazzo è un basso rilievo poi una cattedrale diventa perché moro e giro ringraziate danni moretti cosa vuol dire questa cosa cosa vuol dire che sapesti giro vada qui che sei una merda che ho detto cosa vuol dire moro e giro sono furri ah pensate tigri ah grazie e non saltate oh santa lebra cos'è santa lebra ma non esiste proprio cos'è santa lebra questa di cazzo sbagliato eh lo so io è sbagliato c'è gente ma seo rami lo vorrei adesso proprio basta o rami e dai ma sempre sempre ad essere un bastardo ho capito ma pastorami ma ho messo una o in più ma si capisce il concetto base non è che ho detto pastorami voleva intendere che ne so c'è la signora qua la signora pergole oh pergole woman le tiro il bidone le tiro lese ragazzi insino eh ho aperto wow ma io le basta pupazzo di neve basta moro chi è moro ma sta cosa patti dalla cretina la sua fa eh ho messo la grata sotto stava pattinando come si chiama me la signora međugorri come si chiama non è moro io ho della frutta me la mangio tutta buona mangiate la frutta e non proprio di aspettare gli altri riuniamoci in un point per favore giro vieni qua invece di fare lo stronzo dentro i pacchi non c'è niente ragazzi natale lo devi aprire giro guarda che si è salti giro ma vieni in qua vieni in qua un attimo per cortesia oh è imperativo oggi girolamo the hook cos'è che pingava di qua non c'è niente giro sei pazzo mi stanno occupando ma sono too much people ma su ma suda o suda ma non gode eh ti spara ti spara qualcuno grazie ho ancora frutta venite qua anch'io c'ho la frutta vieni moro mangiamo la c'è tutto aspetta che c'è uno lo vado a pushare lo vado a pushare anch'io è nello stesso moro pensa oh quanta gente sono in tre un raid che sta succedendo si le ballagga tutto aiuto aperto la porta c'era questa orza forza storzata venite qua venite qua venite qua ho usato un succo venite qua io ti odio ora vieni qua mangiamo dai godemos chi ti ha fregato un fucile eccolo qua chi ti ha fregato che fucile che fucile ma c'è un succhio anche qua lectorini da me che siamo solo noi c'è un regalo dove sei corri 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 oh l'ho preso moro moro lo regalo solo io e te wow fortissimo ti ho regalato la mia pistola viola moro cosa potevo regalarti se non questo di me però la prendo sai perché perché non ho una mitraglietta e quindi la userò ho preso una taglia una taglia e strada oh chi è? io lo permabanno credo che sia l'ultimo questo ma so già il pistolo ha avanzato il gruppo ecco una minaccia bastate ecco questo che è l'ultima cerchiamo di vincere per cortesia ho un altro ciuccio aspetta lo prendo che non c'è un pupazzone in tasca non ce ne faccio un segaccio eh moro hai un pupazzo di neve in tasca o sei contento di vedermi non è una risposta stronzo ecco se vogliamo dirla tutta vogliamo dirla tutta ma siete scappati che paura laser ma sei arrivato Elton John come si chiama Indiana Jones da sopra mi presento mi presento come tutti quelli su thread no mi presento sono io l'impusento un pupazzo di neve comunque ho scoperto che il treno non conviene per un cazzo comunque perché io siamo andati con Marco l'altra volta tutta roba blu e volevo come gli harddrop da solo uno proprio adesso non da qui le robe ma che schifezzi ma loro non conviene proprio figa ragazzo lo spider man andiamo nella casetta lì c'è gente oh c'è gente gli ho avvertiti che stiamo arrivando intanto bravo con cortesia sempre c'è anche l'educazione prima di tutti e di tutti certo effetti dai lo vedo da la cucina pezzo di niente l'ho spaccato e moro sono in due squadri questo mitra spara a callon mi faccio schifo a sparare da lontano con questo è qui? no ed è dietro mi sei di qua ho visto un pesce mi sembrava me ne occupo io voi tranquilli non volevo lasciare questo ho sbagliato chi dove pinga? non l'ho capito ragazzi ma c'è gente qui c'è gente al queens ahia ma c'è il queens c'è gente non l'ho capito ma se mi muro si fa tantricamente io ma c'è un mirino grande troppo se voglio me io lo prendo lo stesso chi è dietro? chi? ma non gli spari? no giro giro se giro gli spara io giro ma c'è altra gente ma c'è altra gente che stai dicendo? sono sul treno che merda che merda ora gli do fastidio aspetta che c'è un involtino torna a re tu un cunni sort forte invece di fare osteria vedi prendo questo eh ce l'ho anch'io il cecchino e mo che fai? merdaio ops ah ma è lì lo pusho lo pusho dove sei moro? chi è lì? chi è lì? è morto è morto c'è lì non ci trova c'è la macchina la c'è la macchina ma quelli dal ponte ci rompono le palle dobbiamo andare subito secondo me ma la macchina era sopra al ponte si si è qua andiamo a destra c'è la corda no moro e dammi una mano a salire invece di andartene via vai no dove sei? eh mi sento sopra di via ora sono sopra di via visti eh andiamo dalla corda vec eh mi sa che è l'unica sono andati via allora rimonta si arrivo momenti di culo aiuto stavo cadendo se li maledizione ma che fai? mi sono andati da questa direzione maledetta la telecamera che gira la macchina c'è che sparo è da sotto qua c'era uno ah no era ok c'è la cassaforte cassaforte andiamo in upper deck vai upper echelon vai facciamo la plantenne plantenne dove si fa? plantenne qua i bot sono o a valle o la macchina sono lì ma che sono lì non lo so l'ipo grazie bridge grazie bridge sono laggiù i bot grazie della sub regalo e sparali dai devo prendere la chiave tanto quindi devo avvicinarci lo stesso c'è un cicchino leggendario se la prendi tu devi portarla su poi eh lo so cioè devi anche nel senso non lo posso fare io no ti devo salire c'hai il rampino no nel senso sì l'ho lasciata per il rampino via di merda lasciarla per il rampino eh ma io sono un tipo che si deve muovere con le proprie gambe godo e che hai? mi hanno sparato a sinistra abbiamo il no ma che cazzo di dolore mi hanno fatto ahia sopra sopra sono tere sono qui che è? mi hanno tirato giù te l'ho colpito sopra qui 105 il merda mi tirati su sono dentro il gabbiotto guarda terra aia mi spara da dietro da dietro aia qua 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 no ti prego fermati devo caricare ma sei gentile oh no si pushano eh non mi fa né caldo né freddo la tua offesa eh no sono finibili no adesso ho fatto molto male adesso si sono curati grazie grazie bridge però uno l'ho spaccato eh oh mio dio è qui è paura è qui il giro è proprio qui 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 va beh ma come mai bridge la subina regalata ma non te la sei fatta tu che curiosità ho dei peli incastrati nella dove la pastiera intorno alla lobby quindi eh sì basta batta batta amici però nonostante tutto abbiamo definito la scaletta che adesso la la photoshop ho ben bene come al solito e la verrà fatta in maniera ovviamente come sempre su instagram su discord quindi state aggiornati domani perché se dite ma la scaletta dov'era io vi do una testata nel setto e una sale e vi mando all'ospedale per favore eh è guai ragazzi è pericoloso quindi occhio un attimo stavo facendo una roba 19 fa sbattaglia mentre la resta vabbè fa niente quindi la scaletta che è la 12 ore la squaletta oh my god martedì questo martedì 19 martedì 19 quindi ci vediamo martedì ci vediamo domani mattina però con leg of fuck night leg of fuck night certo ciao belli chi rediamo chi rediamo c'è Filippo ci sono i controlemme c'è Budi 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 aspetta fammi vedere Budi effettivamente da un bel po' che non e rendiamo Budi che bello che l'ho visto la games week Budi mamma mia non ce l'ho fatta in tempo a dargli un bacio con la lingua però la prossima volta Budi salutatelo e ditegli in cosa recentemente ha vinto il primo premio così sappiamo ciao belli ciao belli un saluto ma ciao